Questa seconda lezione verterà sull'utilizzo dell'applicativo Excel per poter esprimere un giudizio di convenienza sulla base del valore di trasformazione. La prima videolezione era la parte teorica, quella che ci interessa in particolare modo è proprio l'utilizzo di questo applicativo. Quindi diciamo le conoscenze che avete acquisito durante la prima videolezione devono essere applicate con la redazione di questa tabella Excel. In effetti è molto molto semplice per cui è più complicato studiare i concetti che poi non applicare gli stessi concetti nella realtà operativa. Allora vedete la tabella Excel come è costituita. Allora la prima colonna troviamo i parametri, quindi il parametro che ci interessa di partenza è la superficie utile lord edificabile in metri quadri. Vedete le due ipotesi esprimono questi due valori. L'ipotesi 1 che era quella chiaramente dell'edificio condominiale erano 1730 metri quadri. L'ipotesi 2 era 1736 metri quadri di superficie utile lord. Trasformando la superficie utile lord in commerciale, quindi compresi balconi, giardini, cortili eccetera, abbiamo 1960 metri quadri l'ipotesi 1, 1977 l'ipotesi 2. Quindi questi sono i due valori di partenza. Quando vi assegnerò l'esercizio voi avrete appunto questi parametri di partenza. Il prezzo di vendita viene inserito qua, 3.000 euro al metro quadro. L'edificio condominiale, villette a schiera, 2.800 euro al metro quadro. In automatico i ricavi vi escono nella tabella. Vedete, già vi fa moltiplicare celle B5 per B6. Idem, qui ovviamente trattasi di C perché stanno nella colonna C. Quindi voi i parametri dovete metterli nelle prime tre celle, nelle rispettive colonne. La quarta ve la fa in automatico, ecco perché vi dico molto semplice. I ricavi, abbiamo detto, non vengono incassati tutti subito, ma il primo anno viene incassato il 20% perché si inizia, come dire, a realizzare l'edificio, sia condominiale che le villette a schiera e vendiamo il 20%. Questo valore ve lo calcolo in automatico perché vi moltiplica direttamente le celle B7 per E7. Quindi qui non dovete mettere nulla. Quando voi metterete i numeri ve lo fa in automatico. Anche l'ipotesi 2 è la stessa cosa, il 20%, il secondo anno il 40% per tutti e due e il saldo viene al terzo anno. Quindi vendiamo tutto entro il terzo anno. Spese di demolizione. Questo è il dato che ve lo dà da progetto. Nell'esercizio vi verrà dato questo dato, come anche quelli della superficie che vi ho detto prima, compresi i prezzi di vendita. Quindi voi nell'esercizio che vi viene assegnato dovete far altro che sostituire dei numeri alla tabella. Poi l'esercizio ve lo sviluppa tutto. E quindi sono 2260 metri, chiedo scusa, metri cubi da demolire. Questi sono i metri cubi da demolire. Il prezzo è 25 euro al metro cubo e il costo della demolizione vi fa direttamente la moltiplicazione tra il volume da demolire e il prezzo della demolizione al metro cubo. La demolizione avviene tutto, vedete, il primo anno, quindi il 100% vi riporta lo stesso valore. Vedete, vi fa la moltiplicazione anche se era superflua. Costo unitario di edificazione. Questo è un dato che vi viene dato nell'esercizio. Non dovete altro che sostituirlo per l'ipotesi 1 e per l'ipotesi 2. Vedete, 1200 euro al metro quadro, 1120 euro al metro quadro. Realizziamo superficie commerciale per 1960 ed edificio condominiale e 1977 le billette a schiera. Abbiamo un costo e vi viene in automatico. Vedete, B14 per B13 e C14 per C13. Questo è, diciamo, il costo di edificazione. Poi sul costo noi paghiamo anche il contributo di edificazione, cioè che circa il 30% sarebbero i cosiddetti oneri concessori e gli oneri di urbanizzazione. Il 30% vi fa direttamente la percentuale, vedete, ve lo calcola sul valore del costo di edificazione. Quindi il 30% sono oneri concessori e oneri di urbanizzazione. Il costo totale vi viene come somma, ve lo fa in automatico. Ora, i costi abbiamo detto il 25% il primo anno, vedete, 50% il secondo anno, ulteriore 25% a saldo il terzo anno. Quindi anche qua in automatico vi fa il calcolo. Parcheggi abbiamo detto che sono 20 parcheggi. Ogni parcheggio va a 2250 euro. Il totale in automatico vi fa B20 per B21 e C20 per B21. I parcheggi li facciamo tutti alla fine, quindi il 100% al terzo anno, perché sono proprio l'ultima opera che viene realizzata. Non c'è necessità di farle prima, se uno non ci va ovviamente a vivere. Quindi prima dobbiamo vendere e poi dopo venduti si realizzano i parcheggi. Le attrezzature che sono, per esempio, strade, giardini, altre cose, 450, fa 30 euro a metro, chiedo scusa, 30 euro. Quindi il costo totale viene 13.500 delle attrezzature. Quindi il costo di costruzione viene dato dalla somma di tutti i valori che abbiamo realizzato della colonna. Oneri finanziari, vedete, sono il 6% e quindi ve lo calcola direttamente, vedete, dal costo totale di costruzione moltiplicato il 6% che sarebbero gli interessi bancari, interessi passivi, qui calcola direttamente il totale degli oneri finanziari. Questi vengono differenziati per anno, vedete, 30%, primo anno 50% e 20%. Profitto di impresa, 20%, ed è ovviamente, vedete, ve lo calcolo anche qui, è sul costo di costruzione, ve lo fa in automatico. Alla fine vi somma i costi di costruzione, anche gli oneri finanziari, il profitto di impresa, abbiamo il totale di tutti i costi per realizzare l'edificazione. A questo punto, vedete, se lo vogliamo fare anno per anno, abbiamo i ricavi differenziati, vedete, primo anno, secondo anno e terzo anno, e costi differenziati, primo anno, secondo anno e terzo anno. Portiamo tutto all'anno 0, quindi se è il 2%, vedete, quindi la forma da applicare è questa, per 1 su 1, più R, che è il saggio di attualizzazione, elevata a 1, perché è il primo anno, il secondo anno elevato alla seconda e il terzo anno elevato alla terza. Se sviluppiamo questa equazione sostituendo al posto di L il 2%, viene fuori 0,98, eccetera, con tutte le cifre decimali, 0,96 è il resto di cifre decimali il secondo anno, 0,94 il terzo anno. Quindi noi, moltiplicando il valore dei ricavi e il valore dei costi per questi coefficienti, per questo risultato che è uscito dallo sviluppo dell'equazione di attualizzazione, abbiamo i costi, scusa, abbiamo i costi, i ricavi e i costi attualizzati anno per anno. Quindi il totale dei ricavi, nel caso del primo, era 5.880.000, nel caso del secondo 5.535.600. Il totale dei costi, che è sempre dato dalla somma, ovviamente, di quello che è uscito sopra, ma questo ve lo fa, vedete, ve lo fa in automatico, quindi non dovete fare niente qua. A volte che avete sviluppato, idem qua, ve lo fa anche in automatico, una volta che voi avete deciso qual è il saggio, vedete? Le formule sono già inserite, non dovete fare altro che inserire il saggio di attualizzazione. Questi sono i costi attualizzati, come differenza, vedete? Vi esce il VAN, valore attuale netto della prima ipotesi, e il valore attuale netto della seconda ipotesi. Anche qua tutto in automatico, quindi nulla di trascendentale. È chiaro che il VAN della prima ipotesi, cioè l'edificio condominale, è più conveniente. Se facciamo anche il rapporto del VAN sui ricavi, vedete? 45-95 è la prima ipotesi, 45-89 è la seconda ipotesi, anche questo è più conveniente. Se facciamo il VAN sui metri quadri, anche in questo caso, vedete? Il rapporto è migliore per la prima ipotesi che non nella seconda. Fatto questo, l'esercizio è terminato. Dovete fare soltanto una breve relazioncina. Questa lo vedremo la prossima volta, come sviluppare l'equazione. Adesso verificate questa tabella come funziona. Potete anche cambiare i numeri qui dentro, e verificare come cambiano i rapporti, come si sviluppa, diciamo, tutto l'applicativo Excel, in modo che acquisite una certa dimestichezza. Buon lavoro, ragazzi! Buon lavoro, ragazzi!